buongiorno e benvenuti in un video tag è da molto che non ne faccio uno allora il video tag dovrebbe essere della farfalla parlante vi lascerò il link del suo canale per potervi iscrivere sono stato taggato da anima luce la mia amica e quindi ho deciso di partecipare il tag è il tag dell'amicizia si compone di dieci domande e niente partiamo allora cosa intendi per amicizia vera domanda numero uno l'amicizia vera è un'amicizia dove non ci sono diciamo confini o non non ci sono comunque non saprei come dire cioè dove non esiste la menzogna e dove non so come dire continuo con i so non so come dire non so non so parlare dove non esiste comunque l'inganno la menzogna dove regna la sincerità ecco domanda numero due che differenza c'è tra amicizia reale un'amicizia virtuale ma sostanzialmente nessuna ovvero mi è capitato di conoscere persone a distanza come cinzia e di capire che ci sono persone che mi danno molto di più da lontano che altre che magari ho vicino casa mia quindi anzi dipende però a volte ho avuto molto più soddisfazioni da gente lontana quindi non è vero che l'amicizia virtuale non può essere una vera amicizia almeno questo è il mio punto di vista un aggettivo che non deve mancare in un'amicizia domanda numero tre lealtà sincerità insomma questo ecco domanda numero quattro sei mai stato deluso da un'amicizia ma certo che sì amicizia amicizia con la minuscola ai tempi magari ho avuto tante delusioni ma non sapevo fare una cernita una selezione quindi sì delusione ne ho avute ma erano comunque persone non così importanti diciamo ecco però vabbè domanda numero cinque come ho reagito ragazzi ho reagito andando per la mia strada e insomma andando avanti e lasciando perdere un genere di persona che non poteva essere compatibile con me o persone che comunque non giovavano alla mia salute che erano dei vampiri energetici o comunque delle persone che non facevano star bene e quindi le ho eliminate e punto con questo non vuol dire che io sia un santo e gli altri sbagliano le colpe sono sempre ambo due le parti però probabilmente da ambo due le parti non c'era più compatibilità o comunque non era una persona con cui avevo un legame così forte così erano più amicizie barra conoscenze che amicizie reali perché amicizie ne ho poche ma buone allora confideresti un segreto ad un amico domanda numero sei certo che sì un amico con la maiuscola penso di potermi fidare cioè penso mi fido e quindi gli confido ho anche un segreto ovviamente domanda numero sette allora scusate hai mai corretto un amico ma corretto secondo me è una parola un po eccessiva nel senso di solito le persone non tendo a cambiarle certo che se devo darle un consiglio o darle un mio punto di vista quello sì però di cambiare una persona o comunque di correggerla no perché io non sono niente nessuno posso volerle bene dirle il mio parere ma non sono nessuno per poterla correggere uno mi può dare delle accortezze o io le posso dare però non sono io che devo correggere posso dare le mie opinioni come lui barra lei può dare le sue opinioni a me giustamente domanda numero otto hai preso la fi come hai preso la fine di un'amicizia scusate letto male questa è la domanda numero otto come ho preso la fine di un'amicizia e ragazzi come dicevo prima alla domanda numero cinque di come ero egitto se sono stato deluso ad un'amicizia e l'ho presa sì che ci sono stato male all'inizio però poi mi sono reso conto che comunque non forse non ne valeva la pena e quindi sì ci si sta male all'inizio perché si è abituati comunque a quell'amicizia magari barra frequentazione o comunque amici di convenienza anche li chiamo quelli un po' così che non sia comunque diciamo che non ho mai rotto con un amico o amica con cui ho un vero rapporto strong di un legame profondo non mi è mai successo più che altro chiuso con gente che non mi dava più di tanto che comunque non era gente fondamentale nella mia vita ecco domanda numero nove un'amicizia si può trasformare in amore? allora nel video di Cinzia ho sentito che lei l'è successo con il suo attuale compagno dopo una vita che stanno insieme ok io personalmente non ho mai avuto un'amicizia e poi un amore quindi personalmente io non credo nell'amicizia cioè nell'amore dopo l'amicizia oppure c'è anche chi dice nell'amicizia dopo l'amore è sempre un tipo di amore l'amicizia però io non credo che personalmente questo mio parere che un'amicizia si può trasformare in amore questo per me però Cinzia la mia amica è la prova vivente quindi è vero può succedere a me non è mai successo allora domanda numero dieci tagga chi vuoi allora io taggerei in questo video Seth Sorelle secondo me parteciperà e sarei contento taggo Loretta del canale Note di Profumo taggerei Patrizia del canale Mandola Cioccolata e taggerei anche Alessia del canale se non ricordo male il nome del canale dovrebbe essere Polvere di Stelle oh mamma c'è un vuoto le manderò un messaggio su whatsapp per dirle che l'ho taggata non mi ricordo se il nome del canale è quello è un canale che è aperto da poco e quindi ora non ricordo bene vabbè detto questo ragazzi io spero che il tag vi sia piaciuto vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti